proviamo a fare un tutorial della cattura di una parte di un video con fastone capture utilizziamo screen recorder qui va bene windows object che sarebbe un oggetto in questo caso questa parte di film oppure full screen o altre parti fix, rectangular, una parte controlliamo le impostazioni record audio, speaker, va benissimo in questo caso essendo un film opzioni, velocità va bene qualità, ok togliamo record mouse pointer che non vogliamo registrare i movimenti del mouse record audio, abbiamo detto va bene, togliamo record mouse click sound anche qui nel caso che essendo un video, un film non vogliamo sentire rumore notification, niente ok facciamo partire la registrazione record selezioniamo la parte che vogliamo registrare full screen o quello che vogliamo in questo caso questa parte di video facciamo partire start e facciamo partire la nostra parte di video qui si vede la barra di avanzamento della registrazione con la possibilità di stoppare che è la possibilità di resumare il video salvare o cancellare e ripeterlo in questo caso lo salviamo stoppiamo il video che non ci interessa più se no ci da un secondo audio salviamolo dove ci pare in questo caso sul desktop lo rinominiamo come vogliamo salva si può selezionare la sezione originale del video oppure più piccolo o quello che vogliamo ok ed eccoci nella sezione editor del video con pochissimi comandi facilissimi play ecco che parte il video diciamo che vogliamo farlo partire da qua cosa facciamo? tagliamo la parte iniziale che non ci serviva era la parte ferma e altro cut controlliamo da 0 a 10 secondi qui sono circa 5 secondi può già andare bene e selezioniamo backward prima del cursore sacchete in questo caso verrà eliminata tutta questa parte che era la parte iniziale che era prima di fare il play nel video ok riportiamo andiamo avanti 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 diciamo che qua non ci interessa più rifacciamo cut in questo caso backward è a posto e facciamo così e questa è la parte finale lo ricontrolliamo diciamo che c'è ancora un po' da giostrare si può spostare il cursore prima o dopo si ricontrolla se va bene ok stessa cosa in fondo una volta fatto questo salviamo il video attendiamo un attimo che finisca l'elaborazione che può durare più o meno a seconda del tempo e dalla qualità che abbiamo messo best o altro salvato play video perfetto fine tutorial grazie grazie